Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere un allenamento composto da 4 esercizi per la parte superiore e per la parte inferiore diciamo, sembra non impegnativo ma seguito per 15-20 minuti oppure anche più, vedrete che si farà sentire spero che abbiate fatto 5-10 minuti di riscaldamento e partiamo! Grazie a tutti Grazie a tutti Ecco un allenamento di 4 esercizi qualcosa per la parte superiore e qualcosa per la parte inferiore l'allenamento diciamo non è tanto semplice anche se è composto da soltanto 4 esercizi comunque lo potete ripetere per 12-15 oppure anche 20 minuti se avete la forza attendo vostre notizie, vostri messaggi se vi è piaciuto il video mettete un like, ci vediamo presto